Casa Bianca Howard Hunt per piacere Il signor Hunt non è qui in questo momento Volete rischiare di diventare bravi giornalisti? È un mestiere che faccio da una trentina d'anni in un grande quotidiano Non mi sono mai annoiato ma forse perché è meglio che lavorare Per scrivere si sa ci vuole talento ma anche metodo, tecnica e confronto L'hanno capito bene gli americani dalle cui scuole di scrittura sono usciti i maggiori autori contemporanei Proviamoci insieme Sì, andiamo avanti con questa cazzata Ma tieni pronto un medico Ti prego, non lasciaglielo fare Guarda che sta benissimo Non possiamo fermarci, Mary Che diranno gli sponsor? Scrivere per la tv richiede cultura, talento e la conoscenza specifica dei trucchi del mestiere Io faccio l'autore televisivo da trent'anni nelle principali reti italiane e intendo continuare a farlo per i prossimi trenta Fatelo con me I tempi ci chiedono di cantare e rotolarci sotto la tavola I tempi ci chiedono di esagerare e stordirci dal bere I tempi ci chiedono di ballare e tirarci giù i pantaloni In fin dei conti I tempi avranno tutta la merda che ci hanno chiesto Gli uomini sono merda Ernest Hemingway Scrivere cinema è anche questo I tempi sono il cinema Fate il cinema con me Grazie per la visione